Ora, il lavoro è chiaramente un lavoro biolatico, è una storia di un'unità di biografia che conosciamo tutti, e quello che è stato bello, diciamo, assolutamente arrepiente e affascinante è il fatto di averlo fatto in gruppo. Forse io con i miei gruppi vengo sempre a far sì lavorare insieme. Non mi piace che le persone si mettono lì che lavorano in modo paradiso, magari su un argomento comune. Voglio che quello che viene fuori, che poi voglio che ognuno solo deve scrivere da solo, ma sia tutto comunque dell'anima del gruppo che mano a mano si viene a formare. Ora, per questo chiaramente è molto molto difficile, perché in carcere c'è tanta sfiducia, come ne ho detto che sia. Le vere mura non sono quelle esterne, anche se sono belle stesse, ma sono quelle che le persone si costruiscono dentro. Ci sono pieni corazzi interiori per dipendersi da tutto, dall'esterno, a volte anche per dipendersi da stessi, dal proprio passato e dalla propria sofferenza. E quindi bisogna lavorare tanto, costruire questa affiducia un passo alla volta. E quindi si sono raccontati, hanno iniziato a portarsi indietro con grande coraggio, perché poi... ... ... ...